E sin dentro questi spazi, che come saranno sempre poi da spesso, dentro le nostre programmazioni di quest'onde furlane da state, dedicarsi alle tecnologie, ma c'è che è le tecnologie non in senso estrente, ma sorriducimo che cambierà le nostre vite. Vino un semiolico, il professor Giorgio Jannis, chi con no, per fare la propria delle tecnologie e delle rete che stanno cambiando le nostre vite. Ecco, è importante, dato che Giorgio Jannis ha anche da spesso fatto intervento tesquale, fare la propria delle squeriche, che cambia tesquale, gli aspies tecnologici, sarebbe importante e sorriducimo che succederà al futuro. Prendi tutto e mandi a Giorgio Jannis. Ciao a tutti. Dunque, allora, dicevi, gli aspies tecnologici sono ridotte le rete, le squelie, c'è che cambia, c'è che succede tesquale, delle squelie, non ome da statali, ma in generale o pensi d'Europa che staranno da ora anche che chiedono in crescita, perché da spesso si fa avere di crescita tecnologica e le squelie, se anche l'ultima ha avuto così starmi, se me aveva di seta gli anni cinquanta. Sempre uguale, certo. C'è anche una battuta che dice, se qualcuno fosse stato congelato nell'Ottocento e fosse risvegliato oggi, si prenderebbe un sacco di paura a guardare il mondo come è cambiato, ma entrando in una scuola rimarrebbe uguale, perché si accorgerebbe che in realtà nella scuola nulla è cambiato. Se fai però il discorso sulla comparazione con stati europei, ricadiamo nel solito discorso che l'Italia presenta aspetti peculiari, diciamo così, riguardo allo sviluppo anche a scuola di tecnologie didattiche, di cultura tecnologica. Ecco, c'è a spesso uno che esce? La visione culturale con cui nella scuola stessa è arrivata quella che è la grande ondata della cultura digitale, in particolare. È stata presa in carico molto da insegnanti o comunque da persone preparate, però preparate secondo una cultura tecnologica degli anni Ottanta. L'informatica c'è da sempre nella scuola, ovviamente, da subito, ma la postura mentale con cui tuttora in un mondo fatto di web, di comunicazione, di persone, non di macchine. E con le domande triste, ci come si fasi alla fa finta che non esisti l'evoluzione tecnologica e in che che in teoria avresti preparati alle vite come le scuole? A domanda chiave. Sì, non ti domandi, ti rispondi, ti rispondi con certe cose, perché le qualche donate che avresti di farlo. Esatto. No, ma ti dico, dal punto di vista istituzionale, cioè i piani di formazione per gli insegnanti, perlomeno da fine 90, dal 95-96, sono stati varati e propagandati nelle scuole dei piani interessanti. Però poi la visione con cui viene letta la tecnologia nella scuola, nella classe, nel funzionamento quotidiano del fare scuola in classe, non passa attraverso quello che noi ogni giorno viviamo tranquillamente, cioè la partecipazione ai luoghi in rete in cui avvengono scambi di socialità. Allora, il problema non è utilizzare il computer come fosse una macchina per scrivere. Questo lo vi indite anche in le prime puntate di questa nostra trasmissione. Quindi come una macchina per produrre oggetti culturali, che siano un foglio di calcolo, scrivere con un programma di videoscrittura, ma direttamente riuscire a portare dei pezzi di didattica, luoghi in cui è possibile attivare conversazioni in classe con i bambini, ad esempio, direttamente dentro degli ambienti web, cioè utilizzare degli ambienti web che siano però connotati nettamente come luoghi scolastici di effettiva didattica. Ecco, chi però ti fermi, perché mi pare che il discorso è diventato più complicato, per arrivare a fare questo tipo di discorso bisogna essere preparati, ecco, bisogna essere capito che funzionano le rete, lo sai che tanti insegnanti in realtà sono bravi, però l'architettura è mentale, gli altri teams anche se hanno 35 anni, purtroppo. Esatto, esatto. E quindi però non possiede un informatic per insegnare, lo sai, italiane, storie, furlana anche. Infatti, lì c'è una progressione da capire molto bene, cioè un conto è parlare di alfabetizzazione informatica e questa bene o male l'hanno fatta nelle scuole, anche se poi gli insegnanti pensano che il computer sia una cosa che impari una volta per tutte e poi rimani sempre fermo, mentre sappiamo uno strumento quotidiano che ogni giorno usi e continui ad imparare. Ma passare dall'alfabetizzazione informatica alle competenze digitali è un passo molto importante. Quando una persona, ad esempio, ha a che fare con il proprio account di posta elettronica, con la password, su come comportarsi in rete, le cose che è meglio dire e che è meglio non dire in un social network, qui l'informatica non c'entra più niente, tranne che l'interfaccia, cioè il computer e sempre di più i telefonini che utilizziamo per andare in rete, sono quelli che ci permettono di arrivare là e là è un posto di socialità normale, umana, di fatto di esseri umani. Quindi, tutte queste competenze che gli insegnanti, se fossero persone normali, lo sono, che sono su Facebook, che hanno un blog, che mandano una posta elettronica. Ecco, forse è una domanda che ti fa, anche quando sei stato a scuole, tanti svolti, forse anche tanti insegnanti tendono a fare una distinzione, una separazione tra chi ha le vite in rete, che magari partono da un'altra casa, e chi ha le vite in rete che vanno a vivere un rapporto con le scuole, che scugne il velo in DD2. Sì, perché i bambini poi arrivano a casa e si trovano in un mondo, vivono in un mondo che, come dicevi prima, non è assolutamente quello della scuola, quindi è un altro caso di schizofrenia della scuola, nel vivere due vite completamente separate, che tra di loro non si toccano, quello che fanno i bambini in classe per 5 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, contraposto a il gruppo dei pari, cosa trovano a casa degli amici, il fatto che a casa abbiano le console, i computer, i telefoni, l'iPhone, tutto quanto quello che gli serve. Ci sono cose che non si possono fare con il computer, e lì stiamo parlando del gruppo classe, del fatto della relazione e di come funziona effettivamente l'apprendimento, che l'apprendimento è sempre una questione sociale, cioè avviene in un gruppo di persone, ma sicuramente, come avviene per noi, attraverso gli strumenti di socialità, che si chiama computer, ma non bisogna che la tecnologia ci svida il pensiero, possono essere potenziati e quindi arrivare a forme di apprendimento, mediate dalla tecnologia, che sono molto più solide e radicate, perché i bambini in prima persona sperimentano cosa vuol dire riflettere su quella nozione che hanno appreso. Ad esempio, ogni classe dovrebbe avere un suo blog, il blog della terza C e così via, le medio, le elementari anche, in cui proporre degli argomenti e qual modo migliore di imparare c'è se non scrivere, commentare in prima persona quello che si è appreso, raccontare a qualcun altro, ciò che si è appreso, è il modo migliore per apprendere in maniera significativa. Ecco, io ho questi esperimenti, a dire il vero, li ho vedo in rete già qualche anno da ora, erano proprio rari, erano 3-4 in mei visi, però che che veniva in fase erano degli esperimenti che avevano un loro valore, un loro parcero, magari erano un po' più ingresa, perché anche l'insegnante sta in sperimentante. E per tua esperienza, stai al succedente che sono delle sindicazioni di carattere didattico per poterlo fare, quale si può dare se non sei anche chi altri si impresce di doprà, proprio per insegnare con le rete, ecco, anche per dare di poi. Ti dico, come al solito, la rete è un posto da abitare, quindi dovrebbe essere costantemente presente. Il concetto a Tiratfur Sergio Maestrello, tra l'altro, in suoi libri. La parte abitata della rete, quella che noi frequentiamo, certamente non frequentiamo i luoghi dei computer scritti in codice. Quello che si può dire appunto è che i piani di formazione sono avvenuti, che preparassero proprio all'utilizzo del web, non solo della macchina, all'interno della didattica. Gli strumenti che si possono utilizzare sono ovviamente il computer, e teniamo presente che ci sono questi computer molto piccoli, netbook, con lo schermo piccolo, che sarebbe facilissimo con un finanziamento regionale e più la scuola, più i genitori, comprare i bambini. A quel punto si sarebbe tutto quanto ragionamento da fare sui testi elettronici, testi scolastici elettronici, cioè smettiamola con il cartaceo ed è prevista una legge, tra l'altro, affinché nelle scuole siano distribuiti dei libri di cui esiste sempre il corrispettivo digitale, eventualmente per essere scaricati. Perché stanno interessanti? Sì, ci ha provato la Gelmini, ma è la storia, la modernità che la porta in quella direzione. Già l'altro anno, chiaramente, l'editoria italiana, le Moniero, Garzanti, quelli tipicamente scolastici, hanno bloccato un attimo la questione, il tempo di adeguarsi. Un altro strumento molto importante sarebbe la lavagna elettronica, la LIM, lavagna interattiva multimediale, che praticamente è uno schermo di un computer attaccato sulla parete. Anche qui, il problema è sempre quello, se la cultura di quell'insegnante continua a vedere quello strumento come una lavagna di quelle di Ardesia, per usarla col gesso, non capirà mai che su quella lavagna lì si può cliccare. Quindi, mentre lui spiega, può chiamare una pagina di Wikipedia, può chiamare una fotografia, può chiamare un gruppo di bambini intorno alla lavagna e si organizza, attraverso uno scambio con la classe tra un gruppo di bambini alla lavagna e quegli altri seduti al posto, si organizza quello che dicevo prima, cioè un apprendimento sociale, in cui non è più la solita vecchia questione del trasferimento di conoscenze dall'insegnante ex cattedra verso l'alluno, ma è l'intero gruppo, un intero gruppo classe che apprende e quindi cresce nella sua consapevolezza. E dopo l'acqua che vi indite già un'evolta di gatekeeper, di che sta proprio detto al porto, un parviergi, anche le scognosince, scapile, direzionale, insomma dall'insegnante si spettisi, poi esperienze. Un gatekeeper importante, scusa, sarebbe proprio quell'insegnante, ce n'è almeno uno per scuola, quello che sono dieci anni che sta facendo questi lavori come una missione perché le fa a casa di sera senza essere retribuito, questa persona che facesse da gatekeeper, cioè da apertura verso nuove conoscenze, verso nuove competenze quindi, verso gli altri insegnanti, riuscendo a coinvolgerli in un processo di miglioramento continuo. Fatto sta che tuttora in Italia, dalle nostre parti, siamo anche messi bene noi, spesso queste persone, questi insegnanti, troppo smanettoni, tra virgolette, vengono visti male a scuola, perché costringerebbero gli altri a lavorare di più, imparare cose e allora vengono fuori un sacco di questioni sbagliate. Beh, non, insomma, d'altre bande il mondo di scuola è un mondo un po' complicato, essere stati, anche altri di giuntari. Sì, solo una cosa, la tecnologia nelle scuole, la tecnologia della comunicazione e dell'informazione non è soltanto riferita alla didattica, proprio l'organizzazione lavorativa stessa, cioè la scuola, che non dimentichiamo, anche una scuola media, piccola, comunque sono 50, 100 insegnanti, 600 bambini, non sono realtà piccole, ha semplicemente introdurre una posta elettronica qualche meccanismo per far funzionare meglio la struttura lavorativa, l'organizzazione proprio, lo scambio tra l'amministrazione e la portineria e la classe di docente e così via, sarebbe già un risultato notevolissimo da conseguire, però rientra che cosa? Rientra nell'ottimizzazione della pubblica amministrazione, in quanto la scuola essendo una PA scolastica e quindi rientriamo nel discorso di Brunetta, della posta elettronica e delle migliori. E di queste, febbra, le prossime puntate di queste nostre trasmissioni, io disgrazio a Giorgio Jannis, che sarà una presenza costante dentro delle nostre trasmissioni, molto particolare dal fin di settimana, perché è venuto decidere che il mese di avosto, dove fu l'anno, è il mese di alfabetizzazione a livello tecnologico e sorridente, dice che sarà il futuro in rete. Mandi, mandi Giorgio. Ciao, grazie.